La barriera sta cedendo! Segnalo la mia posizione. Nerfa questo. Ci penso io. Dentro, forza! Qualcuno deve pur tenervi in piedi. Andiamo! Prendi la medicina. Molte grazie. Sono pronto a tutto. Uno di ghiaccio in arrivo. Adosù! Prego, figurati. Mi serve aiuto! Qui si sta al sicuro. Fatti curare. Non mi ferma nessuno. Barriela attivata. Scatenate l'inferno! Fateli secchi. Non c'è una seconda possibilità per te. No. 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 Grazie.